allora stavo lavorando e sudando perché ci sono 50 gradi all'ombra allora mi girano un video da da roma da roma ma io ma roma è arrivato su lei o è arrivato maradona messi no perché non sto capendo cioè non sto capendo un'accoglienza del genere a un giocatore che non sapete manco non sapete neanche voi chi è mi sembra un po eccessivo l'accoglienza ci sta ci sta ma farlo passare per maradona ma secondo te hai qualcosa di scema cosa incredibile mi vede da ridere perché poi pensa che noi a torino neanche neanche sapevamo che esistiva pensa tu e secondo te non giocatore del genere se era veramente forte se era veramente forte Tiago Motta se lo vendeva Allegri lo mandava in prestito al Frosinò vai giù ma volete finì o no ma la volete Smith per la roma è un grande acquisto non si discute perché la roma è una piazza non come la Juve non si può mai accostare la roma alla Juventus come piazza anche se sti americani il calcio italiano per me sta salendo un po' eh sta salendo un po' a livello di società però voglio dire c'è Lukaku Lukaku di balla c'è non siete andati in Champions con questa gente vi credete che su lei vi porta la Champions League la Coppa del Mondo e ah vai giù ma per favore ditemi che ne pensate ma esagerato esagerato proprio shopper shopper